Undicesima giornata del campionato di eccellenze Girone A. Impegno in trasferta per l'Unitas Esciacca che giocherà a Marineo contro l'Oratorio San Giro e Giorgio. La partita è in programma domenica pomeriggio allo stadio comunale di Marineo con calcio d'inizio alle ore 15. Per il Neroverdi una partita importante con l'obiettivo di dare continuità agli ultimi risultati positivi e di mantenere l'attuale piazzamento playoff. La squadra di casa ha 11 punti in classifica, mentre lo Sciacca 15 ha alle spalle delle lontanissime Nissa, Profavara e Mazzara 46, formazioni che, risultati alla mano, in questo momento stanno dominando il torneo. Per la squadra del tecnico Davide Boncore sarebbe importante tornare da Marineo con tre punti, anche per recuperare i due punti persi domenica scorsa contro l'Aspra, un incontro dominato in lungo e in largo, ma senza che i Neroverdi siano riusciti a superare il portiere ospite. Boncore ha ancora qualche dubbio di formazione, ma su per giù dovrebbe affidarsi ai ragazzi che sono partiti dall'inizio nel corso delle ultime partite, con Secan, Iraci e Concialdi a guidare la squadra e il reparto offensivo. Società di Pasquale Bontivegna che comincia a guardarsi intorno in vista del prossimo mercato di riparazione invernale, con l'Unitas che potrebbe avere bisogno di qualche rinforzo e ritocco per inseguire i propri obiettivi stagionali. Questo è il programma dell'undicesimo turno. Oggi due anticipi, quello tra Aspra e Profavara e quello tra Castellammare e Atletico Palermo. Domenica tutti gli altri match. Oltre a Marineo contro Unitas e Sciacca si disputeranno Casteldaccia-Accademia Trapani, Folgore contro Don Carlo Misilmeri, Supergiovene Castelbuono ospita il Mazzara 46, Fulgatore attende la capolista Nissa e infine Mazzara contro Geraci. Dopo il Marineo, calendario alla mano, l'Unitas e Sciacca è atteso dalla sfida casalinga contro il Casteldaccia.